Io non so se sono stato esaustivo, però credo che ho risposto a diverse domande. Se però a voi, oltre a fare domande, avete magari idee, pensate di poter fare delle cose, io penso che siamo a tutta la disposizione perché, oltre a convincere per vincere le elezioni, io vorrei che voi foste disposti anche a portare idee, portare idee sane. Io vi ringrazio tanto e vi ringrazio per la sua parte.